buonasera a tutte e tutti veniamo all'ultimo appuntamento di questa riflessione sull'arte delle donne o l'arte al femminile che dir si voglia anche se poi dovremmo in chiusura di questa breve chiacchierata forse fare una doverosa precisazione tutti quanti noi auspichiamo un mondo in cui ci sia arte maschile o femminile senza nessun tipo di distinzione la cultura la letteratura il cinema la politica la società quando diventerà davvero finalmente un risultato acquisito il fatto che non ci sia più bisogno di sottolineare che un certo tipo di opera l'abbia fatto una donna piuttosto che un uomo probabilmente allora saremmo arrivati davvero alla maturità di cui tutti quanti avremmo bisogno ma questo è un discorso estremamente complesso e difficile torniamo all'arte tornare all'arte significa ricordare per un momento che negli anni delle prime avanguardie del novecento avevamo avuto un interessante movimento di artiste e donne di muse ispiratrici ma anche proprio di figure estremamente vicine al dibattito culturale dell'epoca e che il secondo passaggio cruciale si data intorno agli anni settanta quando il movimento femminista a tutti gli effetti entra di prepotenza nella nostra società in una società che è ancora prevalentemente occidentale negli anni 90 invece succede qualche cosa di nuovo un po perché di nuovo e direi anche di definitivo che in qualche misura si sta espandendo fino al presente con ovviamente effetti diversi ma comunque significativi perché intanto perché forse si avvertiva davvero la fine di una lunga epoca storica un decennio un secolo e un millennio che stavano per cambiare e soprattutto perché a partire da due date davvero fondamentali il 1989 l'anno in cui registriamo la caduta del muro di berlino e anche l'anno dei fatti di piazza Tiananmen a pechino ma è soprattutto l'anno in cui un ingegnere inglese che si si chiama Tim Berners-Lee deposita al CERN di Ginevra uno strano brevetto un modello di ipertesto virtuale che contiene una misteriosa sigla VVV punto e che davvero è destinato a cambiare molto in fretta molto rapidamente nelle nostre vite venendo invece all'arte sempre 1989 riporta un episodio davvero significativo ovvero una mostra al Centre Pompidou di Parigi dal titolo Les Magicians de la Terre in cui per la prima volta artisti dell'Occidente espongono insieme ad artisti degli altri mondi di quello che un tempo forse anche immeritatamente si sarebbe chiamato terzo mondo ma che certamente pone un allargamento della carta geografica bene questo allargamento della carta geografica che negli anni 90 diventerà sempre più importante sempre più ricorrente sempre più necessario farà sì che si affaccino nel nuovo mondo dell'arte nel nuovo sistema dell'arte che è sempre più parcellizzato che sì a New York come centro d'accordo ma non c'è solo New York ci sono anche delle nuovissime realtà ci stiamo preparando per esempio all'invasione del mercato estremo orientale le fiere d'arte si moltiplicano insomma ci sono davvero tanti episodi degni di nota che arriveranno fino ai nostri giorni ebbene in quel momento così particolare le donne si affacciano in maniera questa volta decisiva e questa volta irreversibile nel mondo dell'arte direi che se prendiamo gli ultimi 25 30 anni di arte contemporanea quindi la più recente i nomi degli artisti donne fortunatamente sono quasi paritari rispetto a quello degli uomini quelli degli uomini ho voluto in quest'ultima parte di corso di mini corso diciamo mostrarvi però solo alcuni di questi esempi perché davvero ce ne sarebbero molti e ce ne sarebbero molti tra l'altro in più parti del mondo io così ho voluto un po spaziare no tra occidente e oriente tra nord e sud cominciando con un artista americana che si chiama che di no land è un artista di area concettuale lo scelta perché credo sia considerata tra le viventi oggi l'artista più costosa al mondo è una delle poche artiste che già negli anni 90 ha superato la quotazione di un milione di dollari destinata a crescere questo perché perché evidentemente anche il mercato risponde in maniera molto positiva a questa grande novità degli anni 90 ovvero che anche le donne possono davvero costare care anche le donne possono avere finalmente giocarsi finalmente un ruolo importantissimo in sede di case d'aste musei grandi collezioni e di conseguenza anche contrattazioni ecco che di no land che ha partecipato per esempio alla documenta del 92 che è considerata una delle artiste concettuali americane anche più criptiche più difficili non è certo una che usa un linguaggio semplice un linguaggio frontale e né ha all'interno delle proprie corde particolari riferimenti al mondo dell'arte al femminile come noi lo conoscevamo per esempio negli anni 70 ebbene viene considerata a tutti gli effetti una delle principali artiste contemporanee sul mercato come vi ho detto prima e siamo in america certo tutti quanti noi sappiamo che arrivare a new york esporre nei grandi musei new yorkesi nelle grandi gallerie new yorkesi essere rappresentati dalle realtà certe volte anche multinazionali più importanti fanno decollare questo questo peso sul mercato veniamo per esempio però a un caso molto interessante quello di shirin neshat perché è molto interessante perché lei viene da dall'iran quindi certamente da una cultura millenaria da una cultura che ha un fortissimo legame con la tradizione con una tradizione dove la la donna gioca un ruolo forse ancor più appartato rispetto a quello di noi occidentali e soprattutto uno di quei paesi che ha vissuto proprio negli ultimi periodi dei momenti estremamente contraddittori anche molto difficili dove la religione va di pari passo con la politica ebbene shirin neshat comincia il suo lavoro ancora ancora all'inizio quando vive prevalentemente in medio oriente raffigurando con delle grandi fotografie delle donne sul cui volto sulle cui mani sulle uniche parti di corpo che restano scoperte vengono scritte con la sua calligrafia delle poesie delle poesie d'amore delle poesie di guerra delle poesie che noi certamente non riusciamo a decodificare dal punto di vista del significato perché sono scritte in una lingua che noi non comprendiamo e che quindi sono un segno un segno grafico shirin neshat diventa famosa già negli anni 90 tra l'altro a un certo punto vira il suo lavoro dalla fotografia al video addirittura al cinema lavorando con produzioni molto importanti con produzioni anche estremamente raffinate dal punto di vista della costruzione filmica ma al cui centro c'è sempre la donna la donna in questa società appunto orientale pure vista ormai da lontano da New York da dove comunque gode in certo qual modo di una posizione di privilegio ebbene la sua osservazione nei confronti della donna non è mai tra l'altro manichea non è mai giusta sbagliata non è mai bene contro male ma è sempre questa estrema contraddizione anche della grande difficoltà della donna di rapportarsi con la società maschile con la società maschilista e anche con quella tradizione appunto culturale matriarcale dove vedeva comunque molte chiusure anche rispetto al ruolo della modernità che passa attraverso la donna i suoi film sempre più eleganti sempre più raffinati hanno fatto non soltanto il giro delle mostre ma anche quello dei festival internazionali dal dal iran passiamo all'egitto e in egitto c'è un artista anche qui abbiamo trovata poi sempre più spesso negli stati uniti l'abbiamo avuta protagonista anche in alcune mostre in galleria e musei in italia si chiama gada amer gada amer lavora con il con il cucito e che già questo dovrebbe in qualche modo rifarsi no alla tradizione culturale del suo paese sapete certamente quante donne vengono impiegate nella manifatturiera del tessire del tappeto che ha anche un significato molto profondo dal punto di vista proprio dei motivi dei significati dei simboli che vengono poi riportati su questi arredi cosa fa gadamer gioca anche se la parola gioca forse non è del tutto corretta lavora in maniera molto contraddittoria su questa abitudine della culturale della donna ad occuparsi del tessuto e le immagini delle immagini pornografiche delle immagini che sono letteralmente prelevate da film da video da giornali più che altro vietati e infatti vengono coperte ma non del tutto non cancellate coperte ma non cancellate da queste colate un po dripping se volete di colori che in realtà sono soltanto dei fili dove si evince che cosa il doppio ruolo la doppia immagine della donna da una parte in casa a lavorare a lavorare per la famiglia dall'altra parte invece oggetto del desiderio del vuoyerismo e anche di una certa come si può dire violenza da parte di questo sguardo maschile diretto soprattutto a lei come oggetto sessuale è un lavoro bello tosto che certamente nel suo paese ha avuto qualche problema non da poco ma che riflette su questa duplice condizione molto ambigua ancora una volta del ruolo femminile tra come le donne si propongono e come le donne vengono guardate appunto dagli uomini andiamo in sud africa il sud africa certo è molto lontano da noi no dall'altra parte del mondo ma in qualche modo di questo misteriosissimo continente che è l'africa è difficile parlare ancora oggi di arte africana perché si dovrebbe parlare di arte delle afriche in quanto c'è una distanza siderale tra ciò che si produce che ne sono nell'area mediterranea piuttosto che nel cuore dell'africa nera o in sudafrica sudafrica dove esistono delle realtà metropolitane dove sono emersi alcuni artisti molto famosi come william kentridge dove marlene dumas ha cominciato a muovere sui primi passi d'artista anche se poi la sua cultura e la sua educazione i suoi studi sono olandesi lei è andata è stata per tanto tempo a soggiornare appunto ad amsterdam marlene dumas si esprime attraverso la pittura vorrei quasi dire una pittura per certi versi classica tele pennelli immagini figure colori eccetera che hanno però sempre in qualche modo la necessità di riflettere sulla società sulla politica ancora una volta sul ruolo della donna che però non è soltanto un ruolo di differenza sessuale di differenza di genere sono sempre donne che hanno che soffrono all'interno di una società ingiusta di una società dove però a essere penalizzati sono anche gli uomini certi uomini in particolare lei ha riflettuto molto sulla questione del post apartheid in 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 sudafrica ecco la sua è una pittura per certi versi addirittura se vogliamo un po espressionista che va anche molto di moda negli anni 90 quando c'è proprio un rilancio forte culturale di di questo genere di pittura di una pittura appunto che ritorna prepotentemente alle immagini però lei vuole dire delle cose e le vuole dire in maniera estremamente dura estremamente esplicita essendo una delle poche donne che sceglie questo campo così come si può dire così appannaggio di solito dei maschi e a proposito di una di pittura continuando su questo genere l'immagine successiva è quella di un artista che un po la carol rama se vogliamo del mondo tedesco in particolare del mondo austriaco maria lasnig un artista che anche lei ha avuto un successo tardo un po proprio come dicevo come carol rama culminato con un riconoscimento internazionale la biennale di venezia alcuni anni fa e che è anche essa molto vicino al mondo dell'espressionismo tedesco una pittura drammatica viscerale violenta dove vengono messi in luce viene messa in luce questa fisicità esasperata questa sessualità per certi versi addirittura abnorme è un artista come vi dicevo cresciuta in quell'ambiente in quell'ambiente culturale ma che ha avuto soprattutto negli ultimissimi anni una sorta di grande riscoperta sia a livello di critica che di mercato ecco venendo invece a degli esempi più vicini a noi anche dal punto di vista anagrafico passiamo ad un artista molto interessante potremmo definirla una fotografa ma forse non le faremmo completamente giustizia anche perché la fotografia in certi casi è un mezzo nel senso che non è semplicemente il linguaggio il supporto stilistico che noi siamo soliti a vedere insomma quando parliamo dei fotografi classici dei fotografi che fanno solo quello no che trinopi utilizza l'utilizza come come registro appunto linguistico ma con una visione che parte dalla performance che parte dalla fisicità dalla body art dal corpo e in particolare ha realizzato una serie di scatti dedicati alla comunità gay e lesbian americana soprattutto dell'area della west coast di san francisco con una attenzione in particolare su questi soggetti che certe volte tra l'altro sono anche degli autoritratti molto duri molto crudi molto violenti con cui lei mette esibisce in maniera del tutto frontale in qualche volta anche ai limiti della tolleranza visiva da parte del dell'amatore d'arte dell'amante dell'arte una forza sessuale estremamente oltraggiosa estremamente difficile questo stranissima autoritratto pervert ai limiti insomma forse addirittura oltre i limiti del sadomaso indubbiamente parlano di una femminilità estremamente violenta ed estremamente disturbata che va veramente al di là dei canoni di bellezza che siamo abituati a considerare soprattutto quando si parla di arte del femminile lei lo fa apposta lo fa in maniera molto violenta molto provocatoria ma il suo lavoro negli anni è diventato una sorta di grande classico di allora non fa soltanto questo lavora anche sul paesaggio lavora anche sulle scene di interno è un artista certamente molto complessa e molto difficile chi invece utilizza l'arma dell'ironia perché badate bene dipende molto da che tipo di anche attitudine si hanno nel caso di chietrinopi ironia sicuramente ce n'è poca nel caso di pipi lottirista ce n'è invece tanta anzi direi proprio tantissima pipi lottirista un artista svizzera tra l'altro ha anche fondato una band una rock band che si chiama le rain pro chen è un artista che diventa molto famosa all'inizio degli anni 90 e con alcuni suoi video che sono video tra l'altro non video di artista classici come noi li intendevamo negli anni 70 ma hanno un colore una grana un linguaggio molto simile a quello del videoclip che nel frattempo passa in televisione sapete mtv diventa il riferimento primario delle ricerche visive nel video appunto a partire dagli anni 80 che cosa fa pipi lottirista in questo video se ne va in giro con una specie di fiore un lungo fiore che nasconde in realtà c'era in realtà una mazza con cui spacca i vetri delle automobili parcheggiati in un atto di vero e proprio teppismo e le persone che incontrano la lasciano fare anzi le sorridono lei vestita carina con l'abitino celeste con questa faccetta da brava ragazza in realtà brava ragazza non lo è affatto anzi si diverte per così dire a compiere degli atti di puro vandalismo proprio per il piacere per per una finalità che non è né politica né etica ma è davvero un atto di pure semplice ribellione un artista davvero davvero divertente passiamo a ragionare sul lavoro di jenny nantoni lei partecipò ad una mostra che probabilmente in molti hanno visto in italia all'inizio degli anni 90 una mostra dal titolo post human si tenne al castello di rivoli all'inizio del 93 fu una mostra davvero molto molto importante per quale ragione perché Jeffrey Deitch allora il curatore di questa di questa mostra venne venne in italia con una serie di artisti che affrontavano i temi che si discutevano molto in quegli anni la possibilità per esempio di cambiare il proprio corpo facendo o degli interventi di chirurgia estetica migliorativi il più delle volte ma estremizzando si andava addirittura verso la manipolazione del dna sapete che quelli erano gli anni in cui ci fu in gran bretagna questo esperimento della pecora dolly la clonazione della pecora dolly ebbene in quegli anni Jeffrey Deitch ebbe proprio l'ardire anche per certi versi tant'è che se ci pensate bene quella mostra venne discussa in televisione sui giornali se ne parlò molto proprio perché il senso diciamo che veniva fuori era quello di un corpo nuovo il corpo degli anni 90 il corpo che non era più umano ma era appunto postumano ed era un corpo che soprattutto nelle donne se da una parte segnalavano questo bisogno dico delle donne ma non solo pensate a due modelli dell'epoca madonna o michael jackson ecco jane fonda o i primi anchorman televisivi che si facevano rifare i visi o i politici quanto hanno utilizzato la chirurgia estetica allora dicevo appunto per alcune donne c'era proprio la necessità di andare a denunciare alcuni disturbi dell'alimentazione no in una società certamente post capitalistica molto opulenta un po ripiegata su se stessa dove vere e proprie malattie come l'anoressia o la bulimia furono oggetto di grandi discussioni all'epoca ecco janina antoni lavora con il cibo lavora con il cibo che mangia sputa cioè ma mangia mastica sputa riutilizza riassembla in sculture oppure sapone che utilizza per lavarsi in maniera anche un po compulsiva frenetica eccetera denunciando che cosa un rapporto non certo facile con il cibo non certo facile quindi con il proprio corpo assumere cibo significa assumere calorie dunque ingrassare e dunque non avere magari quel tipo di per così dire di corrispondere a quel tipo di canone estetico della pubblicità della della televisione delle leggi dello spettacolo un artista italiana che ha lavorato almeno inizialmente su tematiche simili tranne poi esplodere in alcune performance che l'hanno resa famosa in tutto il mondo è Vanessa Bicroft nome esotico per un artista in realtà nata a Genova da padre inglese che ha avuto un'educazione culturale a Milano all'Accademia di Brera che poi è andata a vivere negli Stati Uniti in particolare a New York ebbene Vanessa fin dai tempi dell'Accademia di Brera teneva una specie di diario della propria alimentazione dei propri disturbi alimentari disegnando delle figure che erano delle silhouette molto magre un po' effebiche quasi oggi si direbbe gender fluid quando comincia invece a lavorare in maniera insistita sul corpo fa delle operazioni davvero molto molto provocatorie per l'epoca all'inizio chiede alle sue compagne di corso dell'Accademia di Brera di posare di muoversi in maniera molto minimale senza interagire tra di loro e soprattutto senza interagire con il pubblico in alcune stanze le fa vestire con biancheria intima di non grandissimo pregio le fa mettere indosso delle maglie certe volte delle parrucche colorate poi Vanessa diventa una stare internazionale e il suo rapporto con le modelle diventa certamente quasi un rapporto di casting che può ricordare appunto il sistema della moda dove le modelle spesso sono figure statuarie molte volte nude che aggrediscono tra virgolette gli spazi in cui sono stipate sono performance quasi sempre realizzate o diciamo senza pubblico con un numero molto ristretto di invitati che poi vengono in qualche modo restituite da video da fotografie eccetera ma che hanno molto riflettuto sul ruolo della donna tra arte e cultura contemporanea un lavoro che negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 qualche volta Vanessa diventa anche protagonista delle sue delle sue stesse performance ha veramente segnato un po il tempo di quei di quest'ultimo decennio del ventesimo secolo un artista davvero cattiva nel senso nel senso buono del termine se mi paragonare se mi permettete diciamo il gioco di parole è Natalie Dürrberg danese molto simpatica che realizza tecnicamente dei video a passo uno ma la cosa più interessante è che tutti queste tutte queste sculture questi suoi oggetti questi suoi pupazzi chiamiamoli così animati sono realizzati da lei ancora prima di diventare video tutto il prodotto è suo compresa la colonna sonora la musica l'ambientazione e sono piccole storie tremende dal punto di vista proprio del racconto in quanto tale donne cattivissime donne che mangiano i propri bambini che uccidono i propri mariti che si ribellano ma lo fanno come con lo stile appunto dei pupazzi animati quindi del gioco per bambini come se Dürrberg ci dicesse che già l'infanzia può essere davvero un territorio di frustrazioni e di infelicità che lei ovviamente rovescia con questi suoi personaggi che sono così spietati così così cattivi ma anche così così divertenti Natalie Dürrberg è un artista degli anni nata negli anni 70 una delle ultime star dell'arte dell'arte mondiale in tempi diciamo dal punto di vista recente mentre Sophie Kahl parigina è in giro da parecchi anni lei è nata negli anni 50 ed è a tutti gli effetti forse considerata tra le artiste donne quella che più ha contribuito a innovare un linguaggio il linguaggio della narrativa art degli anni 70 e farlo diventare qualche cosa di molto più contemporaneo di molto legato più ai nostri tempi bene Sophie Kahl racconta storie e non ho usato a caso questo termine il linguaggio la parola è funzionale assolutamente funzionale a ciò che lei vuole vuole dirci spesso lei raccoglie delle vere e proprie tracce come quando si fa assumere da cameriera in un hotel di Parigi per raccogliere attraverso delle fotografie delle piccole storie le tracce di persone che si sono fermate in questo hotel che quindi hanno vissuto anche se soltanto uno o due o tre o poche notti insomma in uno spazio transitorio e perché sono state lì e che cosa vogliono dire i loro oggetti ha raccontato la storia dei propri abbandoni amorosi delle proprie infelicità ma ha raccontato anche per esempio il dramma della scomparsa della mamma della lunga malattia della mamma ha raccontato il ricordo di persone che per la prima volta hanno visto il mare nella loro vita un artista molto letteraria non a caso ha collaborato con alcuni grandi scrittori tra cui Paul Oster è un artista dicevo estremamente letterario un artista per certi versi romanzesca dove è molto importante capire e conoscere il processo che la porta alla realizzazione finale finale dell'opera veniamo invece andiamo in Olanda incontriamo una fotografa molto interessante che si chiama Rineke Dijkstra che ha immortalato soprattutto donne giovani donne che hanno un ruolo diverso nella nella loro società e che portano soprattutto all'esperienza del proprio vissuto che sia di madre che sia di giovane donna per esempio che decide c'è questo un bel lavoro realizzato in israele di combattere nell'esercito di fare una carriera militare insomma di donne che non hanno niente a che vedere con gli stereotipi della bellezza così come i media cercano di imporceri ma che sono donne con un forte vissuto una fortissima identità quello di Rineke Dijkstra è un lavoro seriale un lavoro che si implementa negli anni attraverso proprio una ricerca di archivi o di personaggi di facce di volti. Altra artista davvero molto interessante vedete come si spazia da nord a sud da est a ovest come si diceva all'inizio Sigalit Landau che è un'artista israeliana. Devo dire che Israele ha dato molto all'arte contemporanea di questi ultimi decenni lei riflette molto su questa condizione di un paese dove certo c'è la democrazia ma che rimane schiacciato tutto sommato insieme rimane schiacciato in una geografia che ovviamente la vede un po' come come un'entità quasi astratta qualche cosa che non c'entra niente con il contesto che si sviluppa intorno. Tel Aviv soprattutto ma anche Gerusalemme sono città che da una parte hanno un grande slancio verso la contemporaneità e dall'altra parte invece sono comunque chiamate a rapportarsi con la tradizione ma soprattutto quest'ultima generazione di artisti così come di scrittori israeliani hanno davvero un tiro importante sono artisti forti sono artisti che che lavorano proprio anche sulla 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 politica della cultura sulla politica del loro mezzo espressivo e forse l'unico esempio tutto sommato poi compatto di artiste che provengono tutte quante da una medesima realtà culturale e geografica nell'Inghilterra la troviamo nell'Inghilterra degli anni 90 in particolare dal da quella generazione che poi verrà soprannominata young british art una generazione che ha avuto certamente in Damien Hirst il suo protagonista principale il suo frontman no ma che al proprio interno ha però sviluppato soprattutto una serie di presenze femminili molto molto interessanti a cominciare da Sara Lucas considerate che quasi tutti arrivano dalla stessa scuola quasi tutti si iscrivono al Goldsmith College quasi tutti partecipano a questa mostra inaugurale della nuova tendenza dell'arte inglese degli anni 90 se anche se siamo ancora negli 80 ovvero freeze una mostra indipendente curata dallo stesso Damien Hirst insieme agli altri compagni di scuola ebbene Sara Lucas è una di quelle che si mette abbastanza in fretta in evidenza anche per un suo devo dire caratteraccio no rispetto alla rappresentazione del femminile che passa attraverso per esempio oggetti di recupero consumati sporchi vissuti per certi versi addirittura triviale come questo au naturel dove rappresenta una coppia un'identità sessuale femminile maschile con degli oggetti appunto anche banali anche di scarto lei ha una femminilità molto diretta molto molto dura molto molto esplicita che spesso le ha portato anche delle critiche ma è un artista di grandissimo valore un artista che tra l'altro ha rappresentato la Gran Bretagna nel padiglione alla Biennale di Venezia alcuni anni fa ebbene questo forse un lavoro omaggio a Louise Bourgeois che lei considera una delle sue ispiratrici una delle artiste più coraggiose che hanno avuto appunto il coraggio anche di mettere in piazza una certa femminilità e queste nice tits ovvero questi seni nice carini gradevoli eccetera diventano in questa specie di strano corpo esploso certamente qualche cosa che si può leggere in maniera del tutto diversa assieme a Sarah Lucas l'altra grande interprete dell'arte britannica di quegli anni loro due hanno spesso lavorato insieme hanno anche condiviso per un certo periodo di tempo un negozio un po' sul modello di quello di Vivian Westwood e di Malcolm McLaren che fu la mecca dei punk negli anni 70 ebbene Tracy Emin che ha una fisicità peraltro molto diversa rispetto a quella di Sarah Lucas mentre Lucas è sfrontata aggressiva eccetera Emin è più femminile più intrigante e più diciamo canonica rispetto ad alcuni modelli tra l'altro lei stessa diventerà modello per Vivian Westwood e in un'Inghilterra che poi è l'Inghilterra di Kate Moss cioè di una figura femminile che anche nella moda ha certamente contribuito a far saltare determinati determinati canoni ebbene alcuni lavori di Tracy Emin che vi voglio raccontare uno di questi è Everyone I slept with 1963-1995 dal punto di vista formale semplicemente una tenda canadese come quelle che si vendono da Decathlon o nei negozi simili dove lei all'interno riporta su della plastica colorata i nomi di tutte le persone con cui era stata letto dal 1963 al 1995 compreso ovviamente lei nasce nel 1963 quindi insomma si presume anche la propria mamma e il proprio papà insomma è un lavoro che tra l'altro purtroppo è andato distrutto in un incendio del magazzino di Charles Sacchi che è stato il grande collezionista ma anche il sostenitore di questo movimento appunto della Young British Art questo è il lavoro che fece tra virgolette scandalo al Turner Prize perché Emin ne portò My Bed cioè il suo letto che per certi versi possiamo anche considerare come un ready made ma che non lo è del tutto perché è vero è il letto della sua stanza è il letto di casa sua ma intorno a questo letto c'è il racconto sicuramente di un momento difficile nella vita personale dell'artista psicofarmaci, alcol, sigarette, droghe, calze rotte, lenzuola sporche un disordine che è certamente il disordine di una persona che non sta vivendo un momento semplice un momento facile cioè intorno a una specie di alea strana di depressione, di autodistruzione ecco fu un lavoro molto criticato da alcuni addetti ai lavori che lo definirono troppo violento, troppo cinico in realtà è un lavoro dove non è che si veda chissà che cosa però ecco il fatto di aver messo in piazza i propri sentimenti e non di averli rappresentati con una foto, con un video ma con l'oggetto reale indubbiamente fece, segnò un pochino la differenza il lavoro successivo che vedete invece è il lavoro di un artista che si potrebbe per certi versi dire ha cambiato vita forse sì si chiama Sam Taylor Wood anche se adesso il suo nome con cui la conosciamo meglio è Sam Taylor Johnson ha cambiato il proprio cognome Sam Taylor Wood viene fuori come artista appunto della Young British Art ricordo una sua mostra molto importante alla fondazione Prada Milano ha lavorato soprattutto con il video con delle grandi video installazioni estremamente spettacolari estremamente raffinate indubbiamente lei ha avuto sempre una predilezione per questo tipo di immagini lei è moglie di Jay Joplin il gallerista di White Cube ovvero forse una delle figure più eminenti di questa nuova scena inglese e a un certo punto si ammala di cancro guarisce fortunatamente lascia il marito e decide di intraprendere la carriera da regista cinematografica quindi allontanandosi in maniera sempre più definitiva dal mondo dell'arte realizza tra l'altro come film di esordio Nowhere Boy che è la storia di John Lennon prima dei Beatles quindi la storia del giovanissimo John Lennon prima ancora dei suoi vent'anni recita questo giovane attore Aaron Johnson i due si innamorano perdutamente gli uni degli altri si mettono insieme si sposano infatti il cognome di Wood da Taylor diventa Johnson tra l'altro uno dei film che le ha portato più successo anche se debbo dire onestamente non possiamo certo parlare di un capolavoro è la versione cinematografica appunto di 50 sfumature di grigio brutto il romanzo brutto il film e diciamocelo una volta per tutte c'è anche pittura nella nuova scena inglese degli anni 90 c'è pittura di Jenny Saville artista molto dotata dal punto di vista proprio della della vera e propria manualità della capacità allieva prediletta di Lucien Freud realizza questi grandi quadri dove sono sostanzialmente ho immortalato a se stesso delle modelle estremamente carnose anche qui con una corporeità difficile certamente non canonica lei è una pittrice di grandissimo talento così come molto brava è anche Cecily Brown che pure appartiene ad una generazione diversa e più giovane non è compresa nel mondo della young British art lei tra l'altro a un certo punto decide di andare negli Stati Uniti lo zio di Cecily Brown è il famoso critico inglese David Sylvester che fu l'intervistatore ufficiale di Francis Bacon indubbiamente Bacon così come certi quadri di De Kooning certo stile di quadri di De Kooning si vede abbastanza bene nel lavoro peraltro molto forte molto tosto di Cecily Brown tornando invece ancora indietro per un attimo ad un'altra figura eminente dell'arte inglese Rachel Whitehead che lavora con delle grandi installazioni spesso nel cuore delle città in questo caso è il monumento alle vittime ebraiche un monumento come vedete al silenzio un monumento che è antimonumentale anche semplicemente per il fatto che si sviluppa in orizzontale non in verticale quindi non deve commemorare non deve esaltare Whitehead ha spesso lavorato su questi edifici fantasma uno dei suoi lavori più importanti proprio si chiama Ghost che è il calco di una casa fantasma che a un certo punto viene deve essere distrutta lei prima dell'abbattimento della demolizione di questa casa decide di costruirne il calco quindi di dare anima di dare corpo all'interno allo spazio invisibile che stia cambiando qualcosa nel mondo dell'arte e così ci avviciniamo davvero alla conclusione di quest'ultima chiacchierata soprattutto del fatto che il mondo dell'arte sta sempre di più inserendo nuove figure da nuove geografie e quindi da nuove storie lo testimonia il successo di alcune artiste africane o afroamericane che costituiscono in questo momento delle vere e proprie star che sono delle vere e proprie star nel mercato una di queste è Julie Meretu artista etiope già famosa all'inizio degli anni 90 con questa astrazione molto postmoderna in cui troviamo citazioni da Malevici citazioni da Kandinsky ma tutte quante rivisitate anche in chiave di un altro linguaggio indubbiamente interessante ovvero quello della computer graphic quello dell'immagine virtuale ma forse l'artista in questo momento di cui si parla di più nel contesto delle gallerie internazionali è Nideka Akunili Crosby che è un'artista africana che vive ormai da tanti anni a Los Angeles Los Angeles viene considerata a tutti gli effetti come uno dei luoghi forse più vitali più interessanti più propositivi anche della nuova scena internazionale una scena dove c'è moltissimo spazio per la cultura non ufficiale non soltanto la cultura occidentale la cultura bianca la cultura maschile e maschilista ma la cultura di donne spesso donne che arrivano da mondi diversi e lontani questo è un quadro del 2013 considerate che la Crosby è in questo momento forse una delle artiste più quotate al mondo quindi su di lei c'è veramente un grande interesse la nostra chiacchierata si conclude qui ma volevo non parlare per ultimo non del lavoro di un artista molto di moda molto up to date come appunto quello di Nideka ma citare invece il caso di Maria Lai che è un'artista sarda che l'anno scorso avrebbe compiuto 100 anni e che è stata per buona parte della sua vita a lavorare in Sardegna in un paesino della Sardegna Ulassai dove c'è tra l'altro la sede del suo archivio della sua fondazione lavorando con i tessuti con il cucito con il ricamo raccontando delle storie che sono storie della propria cultura del proprio paese le domus deianas cioè le case delle fate culture che sempre in qualche modo uniscono il senso della tradizione con questo andare invece verso la contemporaneità verso la la possibilità di farsi leggere dal proprio tempo e dal proprio presente Maria Lai secondo me rappresenta davvero una bella cerniera tra il prima e il dopo tra il novecento e l'arte del presente di una donna che pur vivendo in Italia quindi tutto sommato in un paese che si stava aprendo alla partecipazione delle donne nella vita culturale nella vita sociale ancora tanto tanta tanta strada da percorrere grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti